Dopo aver insegnato per tanti anni e aver capito che questo era il momento giusto per metterla, per non avere gli impianti, per non essere più in grado di dare al massimo, ma a scartamento ridotto, sono proprio felice questa sera, perché ho trovato in voi felicità. Vi ho visti partecipi, ho visto occhi che mi guardano con un sentimento positivo e questo mi fa pensare che pur non essendo stata molto, non mi sono molto intromessa nel nostro essere colleghi, mi sono fatta cercare. Quando avevate bisogno di qualcosa io ero disponibile, ma non mi sono mai permessa di andare oltre al ruolo di collega. Se c'è stato qualcosa che vi è piaciuto in voi è stato l'entusiasmo, è stato il vostro modo di porvi, un po' di strada ne avete tutti ancora molto da fare, perché dovete mettere al centro sempre i ragazzi e non la vostra materia. Quando voi metterete al centro la persona, poi troverete il modo per fare un tutt'uno con il ragazzo e trasmettere il vostro entusiasmo, ma prima di tutto l'entusiasmo è per i ragazzi, per il vostro allunno, perché è diverso dall'altro e ha bisogno di voi in un modo che voi riuscirete a tirar fuori, sempre perché sarete un tutt'uno con lui, ma basta guardarlo negli occhi e vi accorgerete di tante cose che fino a quel momento avevate trascurate. Trascurato, lasciate un po' da parte la penna rossa, non esaltate gli errori, ma abituatevi a gratificare i vostri allunni con il bene che sanno fare, perché dentro di loro c'è tanto e gratificare un ragazzo significa aprirlo, aprirlo e farlo sbocciare. E quando voi entrerete in una classe e vi accorgerete che guardandoli i loro occhi si illuminano, vuol dire che voi siete arrivati al punto giusto e potrete fare con loro tutto quello che vorrete. Grazie. Ecco, io vi conosco tutti anche per appunto il ruolo che ho ricoperto fino a poco fa, e devo dire che in ognuno di voi ho visto delle persone diverse, sì, ma determinate nel proseguire la propria strada. Io concordo con Maria Antonia per quanto riguarda la funzione docente, il rapporto con i ragazzi e soprattutto vi voglio dire che bisogna creare un rapporto che deve andare anche al di là della scuola. Io penso che il momento più bello, più gratificante per un docente sia rivedere i propri allievi dopo qualche anno, che vengono a salutarti, che ti invitano alle feste di laurea, che mandano le partecipazioni di nozze, vuol dire che è rimasto qualcosa al di là del mio caso dell'insegnamento del latino e del greco. Giovedì scorso mi sono commossa per due cose, è stato il mio ultimo giorno di scuola frontale. Ho avuto parecchi miei ex allievi che sono venuti a salutarmi perché erano stati qua l'11 maggio e sapevano che poi non ci sarei più stata, per cui sono venuti a chiedermi la mail, il numero di cellulare, ma parecchi ragazzi, veramente, di alcuni non mi sarei aspettata. E poi ho ricevuto un bigliettino che mi ha veramente commosso, accompagnato da un bel mazzo di fiori, di una classe che io ho avuto di bienio, che attualmente è l'attuale seconda classico, con una frase che mi resterà in mente, mi resterà veramente in mente. È una frase di Tucidile, Tucidile parlando di storia dice, c'tema es aiei, un possesso per sempre. E mi hanno scritto, lei per noi è c'tema es aiei. E lì mi sono veramente commossa, vi dico la verità. Quindi il messaggio che io vi lancio è lavorare, lavorare nel modo giusto, con l'attenzione che diceva Maria Antonia nei confronti dei ragazzi, ma cercare anche quell'aspetto umano che va al di là del retino del greco, della matematica e delle scienze, che è veramente un possesso per sempre. Grazie. Un'ultima parola per il personale cosiddetto non docente, perché sempre nella mia funzione di vicaria, prima vicepresso e dopo vicaria, ho sempre trovato molto, molto collaborativo. Ogni volta che ho dovuto chiedere qualcosa, non ho mai incontrato un vigniego o persone che mi facessero capire che non gli importava. Ecco, io penso che anche questo sia un elemento importante. Cioè, in questo lavorare tutti insieme, la collaborazione deve essere reciproca, perché la soffiata, guarda, in quella classe è successo questo, oppure quel ragazzo ha bisogno in questo momento di uscire, posso portarlo fuori, è una cosa importante. O la portilleria che ti avvisa, o una svista che magari la bidella molto attenta ti fa venire in mente, ma tutto il personale, la segreteria, eccetera, io vi do veramente un grazie, un abbraccione pieno di riconoscenza. A tutti voi, a tutti indistintamente. Grazie. 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 Grazie.